Ciao, nome e cognome? Cavaliere Stefano Qual è il tuo sponsor o comunque il circolo di appartenenza? Killer River Poker Club, siamo di Roma, siamo a Trigoria E hai partecipato al Main Event? Al Main Event, sì Mi vuoi raccontare un po' questo torneo come è andato? Diciamo che è andato abbastanza bene Nelle prime sei ore di gioco mi sono piaciute molto Poi dopo la cena è crollata un po' la struttura È stato un po' un push and fold perché c'erano molti corti Però diciamo che mi è piaciuto Avevi già partecipato allo Shark Bay? No, allo Shark no, sono stato molto contento di aver partecipato Quindi parteciperai ancora? Prego Parteciperai ancora? Sicuramente Bene, ascolta, quali sono le carte che difficilmente riesci a foldare? Assonavo i di fiori e le ho foldate mille volte Tra oggi e ieri le ho foldate mille volte Mi è pesato moltissimo Ascolta, se ti dovessi esprimere un desiderio Sia per quanto riguarda il poker o su qualsiasi cosa che ti viene in mente Beh, oddio, un desiderio Penso sia comune un po' a tutti Quello di andare avanti e di cercare di estrarre il maggior valore da questo sport Solo quello Bene, vuoi salutare qualcuno in particolare? C'è qualcuno che ti sta guardando, che facevi il tifo per te? Ma c'erano tutti quelli del nostro poker club Diciamo che abbiamo fatto un po' una scommessa tra di noi Sono molto contento, non ho vinto, però sono molto contento di essere andato avanti Beh, allora ti ringrazio e spero di rivederti al prossimo Shark Bay Sicuramente Grazie, ciao